Per chi è interessato a stare vicino a questo uomo, davvero incredibile perché nonostante tutte queste torture, tutti questi 33 anni di vita non facile, diciamo così, è un uomo pieno di gioia, di vita, ama la vita. Faremo due conferenze su un onore, la prima domani sera al centro culturale UNLA che si trova in via Antonio Serra 93B, zona collina Fleming. Ci sarà alle 20.30 una conferenza, lui racconterà la sua storia e più sarà seguito da un concerto di Oscar Bonelli. Poi il 28 faremo una conferenza sempre con un filmato alle 6.30 di sera, inizio alle 6.30, poi ci sarà la conferenza, poi una cena tibetana a Samantha Badra, l'istituto Samantha Badra è il primo centro di buddismo tibetano a Roma. L'indirizzo è via di Generosa 24. Speriamo di vedervi in tanti. Grazie a tutti.